Ascoltami, tu i miei kinder pinguino li devi toccare! Ma ne ho preso solo uno! Quella è la scorta dello schimico ed è sacra brutta stronza di me! Vuoi ancora andare allo street club? Fuma, posso darti un consiglio da amico? Se è quello a cui sto pensando, ci ho già provato e non funziona. Bere lo sgrassatore non ti fa dimagrire. Fuma, con le ragazze bisogna avere un po' di tatto, tu sei uno stronzo! Ma se sono la persona più adorabile del mondo! Sei un tossico, pregiudicato, sessista, omofobo, misogino, psicopatico, violento! Non ho mai picchiato una donna in vita a me! Devo ricordarti com'è finita con la tua ex moglie! Amore, ho una bellissima notizia! Hai imparato a cuginare! Sono incinta! Ah ah, non l'ho mai picchiata! Sei un criminale! Fuma, fai e dici cose orribili di continuo! Se continui così, nessuna donna ti vorrà mai al suo fianco! Ma io ci provo ad essere carino! L'ultima l'ho anche portata al maneggio a vedere i cavalli che le piacevano tanto! Ma chi? Quella vegana! Che carina! È la prima volta che vedo una presa alla vita! Mi aveva preso in antipatia quella, dai! Che succede? È arrivata mia cugina, Fuma! È una ragazza molto dolce, premurosa, gentile! Sono convinto che forse potrebbe essere la donna giusta per te! Adesso ci conosceremo meglio! Faremo un bel aperitivo! E magari un giorno, chi lo sa, uscirete anche insieme! Dai, vieni che te la presento! Ciao! Io sono... gay!